TAP Portugal vi dà il benvenuto a bordo. Dal 3 giugno, nuovo volo diretto da Torino a Lisbona. 4 voli a settimana e tariffe a partire da 99 euro andata e ritorno. Informati e prenota presso la tua agenzia di viaggi o su flytap.com C'è solo un modo per viaggiare in Portogallo. A braccia aperte con TAP Portugal.